Buongiorno a tutti, un caro saluto e ben ritrovati con l'informazione del giorno del telegiornale di TLT. Ed è operativo e funzionante il drive-in realizzato dall'arma dei carabinieri nella zona antistante lo stadio di Selvapiana Campobasso per alleggerire la pressione sull'ospedale Cardarelli in relazione ai tamponi Covid. Ma andiamo a vedere l'intervista. Già molte le persone che a bordo delle loro auto hanno provveduto al tampone Covid presso lo specifico drive-in realizzato dai carabinieri del comando provinciale di Campobasso nell'antistadio Selvapiana, appunto nel capoluogo di Regione. Il drive-thru difesa è un progetto che fa parte dell'operazione IGEA fortemente evoluto dal ministro della difesa Lorenzo Guerini. È organizzato dallo Stato Maggiore della difesa con il coinvolgimento di tutte le forze armate ed è coordinato dal COI, Comitato Operativo Vertice Interforze, che serve per, insieme alle istituzioni locali, protezione civile, ASREM e comune, ha consentito di organizzare questo drive-thru. La cosa importante da dire è che in questo sistema noi riusciremo a effettuare circa 100-120 tamponi al giorno alleggerendo il carico di lavoro che ha l'ASREM, che ha l'ospedale Cardarelli. È molto rapido, si viene in autovettura. È importante ricordare a tutti i cittadini che occorre la prenotazione all'ASREM come un normale tampone. Non si può venire qui a effettuare un tampone in autonomia, ma deve essere sempre prescritto dal medico e quindi segui la procedura. Gli orari sono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e il sabato dalle 8.30 alle 11.30. L'impegno dell'arma è che sono cinque carabinieri al giorno, di cui due sono qui all'accettazione, dove ci sono le liste delle persone che devono effettuare il tampone insieme ad un dipendente dell'ASREM e poi ci sono tre carabinieri che stanno nell'altro container, che sono coloro che svolgono il tampone, sono due infermieri ed un medico dell'arma dei carabinieri. Avranno accesso con le autovetture, ovviamente. Non scenderanno dalle autovetture proprio per motivi di sicurezza e quindi eseguiranno ovviamente il tampone sempre dalla procedura, dal finestrino. Questo appunto per garantire al massimo la sicurezza e l'isolamento. Quindi ci sarà un primo step di due carabinieri ed un addetto ASREM che avrà appunto le liste già stabilite dall'ASREM delle persone che devono effettuare questo tampone. E allo step successivo ci sarà il personale sanitario dell'arma dei carabinieri, un medico e due infermieri che eseguiranno il tampone. Dopodiché verrà quasi immediatamente trasportato al laboratorio dell'ASREM dove verrà processato comunque nel giro di breve. Consideriamo che le risposte avverranno tra le 24 e 48 ore, quindi insomma abbastanza buono come risultato.